Al momento non si prevede nessuna ulteriore riduzione rispetto a quelle attuali. È quanto è emerso dalla conferenza stampa convocata dal Presidente della Regione Vito Bardi in qualità di commissario straordinario per l'emergenza idrica che coinvolge lo schema Basento Camastra. Noi abbiamo una necessità di far fronte a una difficoltà. Abbiamo per la prima volta, e io questo voglio sottolineare, il Governo nazionale ha nominato un commissario, ha dato delle risorse alla nostra Regione per poter risolvere una crisi idrica che è una crisi importante anche perché il vero problema è che riguarda un numero di persone considerate che sono circa 140.000 persone. Noi questo problema lo risolveremo. Come risolveremo i problemi che sono a monte perché derivano anche da problemi infrastrutturali, da problemi che riguardano lo schema idrico non solo della Camastra ma anche di altri schemi. Quindi io credo che sia l'occasione opportuna per poter fare chiarezza anche con gli altri organismi che si occupano di questo. Mi riferisco all'autorità di Bacino, mi riferisco a Acque del Sud, mi riferisco a tutti coloro che si occupano di schemi idrici nel territorio nazionale di cui fa parte anche la nostra Regione. Quindi adesso pensiamo a risolvere il problema più impellente che è quello di dare l'acqua ai cittadini lucani. Contemporaneamente sono stati messi in atto tutta una serie di iniziative per risolvere il problema anche della diga a monte. Accanto alle soluzioni già attivate come il cosiddetto Camastrino, la principale opzione individuata è quella di prelevare le acque dal fiume Basento e di sollevarle fino all'invaso. Dal Camastra saranno poi convogliate nello schema esistente e sollevate fino al potabilizzatore di masseria a Romaniello per essere trattate prima dell'immissione nella rete di distribuzione. Una verifica per l'individuazione di fonti alternative di supporto è stato spiegato durante la conferenza stampa e in corso da parte del Consorzio di Bonifica, l'ente che gestisce pozzi e sorgenti ad uso in riguo nell'area dell'Alta Valdagri. L'ipotesi ruota attorno all'aumento di portata di 500 litri al secondo rispetto agli attuali 350, già destinati al Camastra, utilizzando diversi pozzi, alcuni dei quali da riattivare. Una unità di crisi che coinvolge tutti i soggetti istituzionali interessati seguirà l'andamento di tutte le operazioni. Degli interventi a lungo termine di natura strutturale ne ha parlato il vicepresidente dell'Aggiunta regionale, assessore alle infrastrutture, Pasquale Pepe. Dobbiamo uscire adesso con quei provvedimenti che sono stati illustrati prima, cioè trovare cosa che stiamo facendo e in buona parte ci siamo già riusciti delle fonti di approvvigionamento di acqua alternative, quindi attraverso il basento, attraverso dei pozzi che sono monitorati. Questo ci consentirà, laddove si dovesse compiere questa operazione, di evitare ulteriori restrizioni che adesso stiamo compiendo in questi 29 comuni. Va ricordato che al momento la fornitura è consentita grazie a quei pontili mobili che sono stati installati sulla diga, sulla parte più alta della diga, altrimenti non avremmo avuto la possibilità. Al contempo stiamo lavorando in prospettiva perché questa crisi non si ripeta più e il senso di questa nostra prospettiva è rendere interconnessa la diga della Camastra. Noi ricordiamo che è un bacino isolato per cui se non arriva acqua dal cielo, se non arriva acqua dalle sorgenti, la diga è destinata a svuotarsi. Queste interconnessioni consentiranno tra l'altro di svuotare tutta la diga, evitando di interrompere l'erogazione di potabile e di ripulire il suo fondale, così come anche il commissario straordinario per l'emergenza etica nazionale Nicola Dell'Acqua ha chiesto attraverso un finanziamento di circa 32 milioni di euro.